mezzanotte 54 buonasera ultima edizione del nostro telegiornale cominciamo subito dal venezuela nicolas maduro parlando davanti alla corte suprema ha detto che non ha nessuna intenzione di lasciare ma è disponibile ad una mediazione dal canto suo quan guaidó l'uomo che si è proclamato presidente ad interim ha detto di essere disponibile ad un'amnistia per tutti coloro che si metteranno dalla parte della costituzione per ristabilire l'ordine compreso nicolas maduro intanto gli stati uniti hanno ordinato al personale diplomatico di ritornare in patria lasciando solamente poche persone a presidio dell'ambasciata che comunque resterà aperta il servizio presidente non lascerò mai a un governo parallelo di pagliacci nicolas maduro non ha alcuna intenzione di mollare lo ha ribadito nel discorso di fronte a quella la corte suprema che legittimò l'esautorazione dell'assemblea nazionale dominata dall'opposizione e guidata da quan guaidó autoproclamatosi mercoledì presidente ad interim e immediatamente riconosciuto da mezzo mondo a cominciare dagli stati uniti che hanno chiesto una riunione urgente del consiglio di sicurezza delle nazioni unite poco prima che maduro annunciasse il ritiro dello staff diplomatico venezuelano ma nel paese sudamericano in piena crisi umanitaria la guerra civile appare ormai ad un passo dopo due anni in questa settimana le frange più dure dei manifestanti antimaduro sono tornate a scontrarsi con le forze di sicurezza compresi i cosiddetti collettivos gruppi di paramilitari che si spostano in moto composti da personaggi dal passato non proprio limpidissimo il bilancio totale sarebbe al momento di 26 morti e oltre 300 feriti la mossa di guaidò ha impresso una nuova accelerazione agli avvenimenti con la comunità internazionale spaccata tra coloro che lo sostengono oltre agli stati uniti il canada gran parte dei membri dell'organizzazione degli stati americani e l'unione europea e coloro che invece appoggiano maduro e denunciano inaccettabili interferenze degli stati uniti russia e cina in primis ma anche turchia e iran una proposta di negoziato inclusivo e credibile è invece arrivata da messico e uruguay sono d'accordo con un'iniziativa per il dialogo le parole di maduro citato dai media venezuelani negli stati uniti donald trump è pronto a da girare il congresso per sbloccare lo shutdown e trovare i fondi che gli servono per la costruzione del muro il massiccio aumento di stranieri che entrano illegalmente sono una minaccia alla sicurezza ed un'emergenza nazionale scritto in una bozza preparata la scorsa settimana e divulgata dalla cnn con l'emergenza trump può riperire i soldi che i democratici gli negano 7 miliardi necessari che verranno reperiti da fondi del tesoro non spesi da quelli del pentagono e del dipartimento della sicurezza per la costruzione del muro doran trump sta pensando di impiegare gli uomini del genio militare una recessione è improbabile ma la crescita sarà inferiore a quanto previsto sono le parole di mario draghi al termine di un direttivo della banca centrale europea durante il quale come previsto i tassi sono stati lasciati invariati i tassi rimarranno a questi livelli almeno fino all'estate forse decisamente più a lungo visti i rischi a ribasso sulla crescita che sono tornati a prevalere dall'incertezza sui dazi alla possibile brexit senza accordo l'euro tower comunque ha assicurato draghi a tutti gli strumenti per affrontare questi rischi si riapre il caso della nave diciotto per quei 117 che furono lasciati in mare per cinque giorni davanti al porto di catania dal ministro salvini era stato chiesto era stata chiesta era stato chiesto il processo poi il tribunale di catania aveva emesso un'archiviazione ma adesso invece il tribunale dei ministri ha chiesto di procedere vediamo sequestro di persona aggravato anche perché commesso i danni di minori per il tribunale dei ministri di catania matteo salvini deve andare sotto processo per aver commesso questo reato pena massima prevista a 15 anni di reclusione abusando dei suoi poteri la richiesta di archiviazione avanzata dalla furgura della città siciliana è stata dunque respinta la vicenda è quella del mancato sbarco di 177 persone bloccate questa estate per cinque giorni sulla nave della guardia costiera attraccata sulla banchina del porto di catania secondo i tre giudici del tribunale dei ministri salvini avrebbe agito per motivi meramente politici costringendo i migranti in condizioni psicofisiche critiche a rimanere sulla nave determinando consapevolmente l'illegittima privazione della loro libertà personale e violando così le convenzioni internazionali di soccorso in mare accusè che matteo salvini in una diretta facebook non ha respinto anzi ha detto il ministro se sono stato sequestratore una volta ritenetemi sequestratore anche nei mesi a venire sono pronto all'ergastolo perché ho bloccato e ribloccherò la procedura di sbarco dei migranti toni di sfida che secondo l'anm delegittimano la magistratura ora sarà la giunta per le immunità a esaminare la vicenda che era stata promossa dal procuratore di agrigento luigi patronaggio la prima riunione è fissata per mercoledì prossimo la giunta entro 30 giorni dovrà esprimere il suo parere il senato dovrà poi votare e richiesta la maggioranza assoluta e decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere ai giudici ordinari la tav continua ad essere un argomento che divide il governo salvini insiste va assolutamente fatta ma il fronte 5 stelle si mostra compatto valuteremo se farla in base ai costi se saranno superiore ai benefici non si farà un'altra frattura quindi si apre dopo che se n'era appena richiusa un'altra quella che si era aperta con il caso delle trivelle che è stato risolto con un compromesso vediamo come caso trivelle risolto il compromesso tra movimento 5 stelle e lega è arrivato la notte scorsa ed è stato già recepito da un emendamento al decreto semplificazione approvato dalle commissioni affari costituzionale lavori pubblici al senato il testo prevede la sospensione di 18 mesi delle perforazioni nei mari italiani e canoni per le compagnie petrolifere per ricerca e stoccaggio a terra aumentati di 25 volte eppure il nuovo scontro nella maggioranza gialloverde aveva portato il ministro per l'ambiente sergio costa sull'orlo della rottura perché con il sostegno dei pentastellati chiedeva lo stop alle nuove trivellazioni contrario il carroccio e il premier giuseppe conte rivendica anche in questo caso il suo ruolo di mediazione e annuncia abbiamo istituito un tavolo permanente presso il ministero dello sviluppo economico che avrà anche il compito di concordare le misure definitive anche costa è soddisfatto questi 18 mesi di moratoria spiega vanno messi a frutto per costruire un pensiero nobile ambientale ulteriore sono un bel passaggio non per aspettare che magari arrivino a 36 la lega porta a casa un mezzo risultato evita lo stop definitivo ma deve accettare un incremento notevole dei canoni concessori salvini avverte l'unico no e agli sbarchi peraltro cominceremo a imporre un po di sì garantito io amo l'ambiente puntualizza il ministro dell'interno però la bolletta energetica costa troppo se c'è più gas e metano sono più contento non è che possiamo mettere pannelli solari dappertutto e adesso il calcio ultima settimana del mercato invernale intanto per il polacco piontech oggi è stato il primo giorno da milanista gli obiettivi di piontech sono chiarissimi giocare già sabato contro il napoli del suo connazionale milic e presto debutare in champions con la maglia rossonera il milan si affida a lui autentica rivelazione del girone d'andata per centrare la qualificazione il mercato di leonardo si potrebbe chiudere con il centrocampista della sampdoria praet sono invece i cugini del genoa a schierare per il resto della stagione il centrocampista sturaro ceduto dalla juventus a titolo temporaneo per un milione e mezzo con obbligo di riscatto a otto e mezzo e torna a parlare portoghese come ai tempi di maurigno linter con un prestito dal southampton il difensore cedric ma la seconda di ritorno che scatta sabato pomeriggio con sassuolo cagliari e san pudinese al suo primo snodo importante in milan napoli oltre che per l'alta classifica la sfida è sotto gli occhi di tutti per il rischio di incidenti fra i tifosi delle due squadre esattamente un mese dopo i tragici fatti del 26 dicembre i sostenitori partenopei in un numero stimato attorno ai 10.000 faranno di nuovo rotta verso san siro lo stadio milanese soltanto pochi giorni fa si era riempito di giovanissimi tifosi in erba in occasione di inter sassuolo e questo era l'ultimo servizio è l'una e due minuti ci fermiamo qui come sempre domani mattina alle 7 ricomincia l'informazione arrivederci buonanotte 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 buonanotte